Turno di pausa, c'è troppo freddo in giro per l'Italia, non era il caso di andare a Pescara né per la prima né per la seconda, se ne riparlerà a marzo in contemporanea con le Final 8, manifestazione alla quale la Viola era ben abituata. Come sta questa squadra Marco Caprari? Ma in questo momento molto bene, in crescita chiaramente perché finalmente siamo riusciti a diventare una squadra completa e aspettiamo ora le buonissime notizie da Coronini che si accreverà al gruppo penso fra un paio di settimane, quindi veramente tutti contenti, entusiasti e molto fiduciosi. Abbiamo visto una novità negli allenamenti, urlo prima di iniziare e alla fine, prima non c'era, ci hanno fatto notare. Ma è stata una cosa che ci è venuta spontanea soprattutto con l'arrivo dei nuovi e quindi è chiaro che sicuramente è una forma per essere sempre uniti, per lavorare sempre tutti quanti in gruppo e per avere sempre l'idea di seguire tutti in un'unica direzione. Parliamo dei nuovi, in tanti pensano che sia totalmente un'altra Viola rispetto a quella di inizio stagione, chiaramente non ci dimentichiamo che quella squadra ha navigato nelle zone altissime di classifica per tanto tempo, un cambiamento in meglio si spera. Io penso che la squadra che eravamo prima era una squadra sicuramente competitiva dove poi secondo me nel momento clou della stagione uno eravamo al completo e due abbiamo subito un paio di importuni gravi quali quello di Coronini e anche quello di Potì che sono stati sicuramente per me determinanti per i risultati di certe partite, Vedi Roseto e Vedi Rieti. Quindi comunque la squadra era sicuramente competitiva. È chiaro che lo stava facendo sia la società e sia poi col cambio di guida tecnica con Domenico, la società si accorta che mancava qualcosa, è arrivato il lungo che era un giocatore che doveva comunque arrivare e ora ripeto aspettiamo il ritorno di Coronini e con l'arrivo anche di Stefano Zampogna e penso che siamo completi e altamente competitivi. Questo era l'obiettivo penso della società nel rimborsare questa squadra. Infiltrazioni d'acqua a Modena, al Palacalaviore c'è un lago all'ingresso principale e oggi è saltato anche il parquet. Il vecchio calcio della Viola una volta ha messo una sedia in mezzo al campo, oggi sono bastate due bottiglie, c'è qualcosa che non va in questa città? Sicuramente, sono obiettivo, sono sempre stato sincero e sempre lo sarò. Non si lavora nelle condizioni ottimali, questo non c'è dubbio ma non penso che lo scopro io. Noi ci adeguiamo sicuramente con grosso piacere e grosso sacrificio. La società sta facendo lo stesso per metterci nelle migliori condizioni di poter lavorare ma penso che altre persone debbano provvedere a sistemare quelle che sono le strutture per poter lavorare e soprattutto per poter fare professionismo a un certo livello. Questo purtroppo sicuramente oggi a Reggio manca ma speriamo che sia un punto di partenza per poter migliorare questi aspetti. Domenica la Viola chiaramente ha riposato, al Palacalafiola ha giocato l'Audax alla squadra di C1. A un certo punto Gaetano Vestino ha messo 4 bombe su 5. Tutto il pubblico dice, guarda Caprari, come Caprari? Ha lanciato una moto, una tendenza. Speriamo di riuscire a continuare questa moda, a lanciare bombe, a lanciare questo tipo di moda che chiaramente fa bene alla squadra, alla mia squadra, fa bene a me, fa bene al pubblico e alla Viola e poi se qualcuno vuole replicare con tutto il piacere ci mancherebbe.